Allora ragazzi, veniamo alla recensione di Imaginary, film horror diretto da Jeff Wedlow in uscita al cinema il 14 marzo, film prodotto da Blue Mouse che vede la storia di questa famiglia, neo-famiglia, perché c'è una mamma nuova, una matrigna, che è la ragazza nera, poi c'è lui, il marito, il nuovo marito e le due figlie della precedente compagna di lui che è impazzita e quindi ci sono casi di violenza domenica e loro prendono e decidono, perché non riescono proprio a uscire da questa situazione di tensione eccetera, di tornare a vivere dove lei, la ragazza, ha vissuto fino a quando aveva 5 anni, non ricorda molto, non ricorda un cazzo, però insomma torna a vivere lì, questa ha una casa lì, sfitta, perché poi il padre non c'è, non vi dico che cosa fa, perché non voglio svelarvi troppe cose interessantissime di questo film. Allora non mi piace blastare i film, perché spesso i film hanno, non so come dire, ci provano e poi sbagliano, per cui io apprezzo il fatto di provarci, il fatto che c'è un lavoro dietro, purtroppo c'è un lavoro anche dietro questo. Però in questo caso diciamo che sono propenso a blastare un pochino questo film, perché è un po' l'emblema del declino qualitativo, non che fosse mai stato chissà che cosa, però aveva iniziato in un certo modo la Blumhouse, comunque lo budget, comunque tirando fuori dal cilindro dei film dignitosi, con pochi soldi, facendo riscattare anche certi registi, però questa volta veramente è caduta più in basso di quando è uscito Megan, è caduta più in basso di Night Swim. Ecco quei film lì a paragone sono dei capolavori, sono delle pietre miliari del cinema rispetto a questo film, questo è un film pieno di cliché incredibili che si sovrappongono al punto tale da non avere neanche senso, sono inspiegabili, comunque abbiamo un villain che è un personaggio immaginario, il classico amico immaginario che però, che ha un suo perché di esistere, però si manifesta sempre e comunque quando si manifesta, non so perché, dietro al protagonista o alla persona inquadrata si deve presentare una cazzo di ombra che non ha nulla a che vedere con il resto della storia, è la classica ombra dietro che dovrebbe far paura, ma è ficcata senza nessuna logica dietro ai personaggi, ogni volta che c'è un momento di tensione c'è uno switch per cui alla fine l'inquadratura inquadra il protagonista della scena e dietro c'è un ombra o si intravede qualcuno, boh dovrebbe spaventare dovrebbe, ma non spaventa, non spaventa nessuno, mi sono trovato a diciamo salvare certi film di qualità inferiore, chiamandoli entry level per magari ragazzini che appunto si possono divertire con un prodotto meno di qualità, meno intelligente, perché appunto sono agli inizi, quindi certe cose possono funzionare, è un modo per iniziare ad assaggiare qualcosa senza, anche se io non sono per questo tipo di dieta, nel senso che un ragazzino può tranquillamente vedere Rosemary's Baby, Shining e apprezzarlo senza avere chissà quali strumenti, nonostante ciò comunque alcuni film brutti possono divertire, questo film immaginari credo che non piacerà a nessuno, neanche a persone insomma più giovani e più piccole, perché veramente non spaventa, non è interessante, non ha neanche un target corretto, perché comunque la protagonista è una donna e il film è abbastanza ingenuo, infantile, non so in chi dovrebbero riconoscersi loro, è totalmente privo di sangue, a parte una piccola scena dove c'è questo sangue in CGI che esce da una porta in modo anche abbastanza sciocco, credo veramente di non essermi mai annoiato così tanto e ho visto anche dei film non belli, insomma pieni di problematiche, ma questo è un film che veramente non ha senso di esistere, credo che sia costato 12 milioni di euro, è inspiegabile come si possa investire in un film del genere, poi probabilmente qualcosa ricaverà e forse riporterà a casa quanto meno le spese, se no forse andrà benissimo perché verrà pubblicizzato a dovere, però horror è tra i peggiori, sì forse è il peggior film che io abbia visto negli ultimi dieci anni, è veramente una cosa inaccettabile. Ho avuto la sfortuna, fortuna di vederlo doppiato perché ho notato che nel trailer la bambina quando parla tacendo la voce dell'orsetto nella versione originale ha una voce demoniaca distorta, anche quella è un'altra delle decine di cose che sono sopra le righe totalmente assurde di questo film, non fa neanche troppo il giro, dice vabbè è così brutto che fa ridere, no, è veramente noiosissimo. Mi trovo con dispiacere, perché preferisco non parlare normale dei film, però mi trovo con dispiacere a doverlo sconsigliare caldamente a tutti, questo cinema non va assolutamente sostenuto e se tu pensi che questo film possa piacere a delle persone vuol dire che pensi che le persone siano stupide fondamentalmente, cioè non è accettabile che tu proponga una roba del genere, è inaccettabile questo film, con tutto il rispetto per chi ci ha lavorato, anzi proprio per il rispetto ai professionisti che poi lavorano sui film e si ritrovano a dover far parte di questa cosa. Questo è tutto per quanto riguarda l'immaginario. Grazie. 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 Grazie.